buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su arezzo tv in apertura alla cronaca la polizia stradale di arezzo è intervenuta in a uno per un furto avvenuto in un modo a del fuoco curioso vediamo cosa è successo aveva finito il gasolio del suo autocarro e per ben due volte è stato soccorso in autostrada la seconda volta però ha rubato direttamente il carro attrezzi con il suo veicolo ancora agganciato un furto a dir poco insolito quello che si è consumato lungo il tratto a retino della 1 prima di valdichiana in carreggiata nord il primo intervento della polizia stradale attorno alle 3 di notte quando l'autocarro è stato notato fermo in corsia di emergenza con le luci spente il conducente un ventenne sosteneva di aver terminato il carburante così il carro attrezzi lo ha trainato fuori dall'autostrada sembrava tutto risolto ma poche ore dopo un'analoga segnalazione poco più a nord i poliziotti hanno trovato lo stesso veicolo soccorso poco prima di nuovo fermo sempre senza carburante in corsia di emergenza e con lo stesso giovane nuovamente così l'intervento del carro attrezzi ma a questo punto il ragazzo cogliendo al volo un momento propizio si è messo all'improvviso alla guida del carro attrezzi che lo aveva soccorso con ancora il suo autocarro attaccato alle sponde ha messo in moto e se ne è andato via una volta raggiunto dopo qualche chilometro dalla polizia stradale è stato denunciato per furto aggravato il veicolo che guidava ancora senza carburante è stato invece sequestrato adesso andiamo a sentire il grido di allarme di un allevatore che dopo l'attacco dei lupi al suo gregge ha deciso di fare un gesto eclatante ed ha portato la carcassa di una pecora in piazza Guido Monaco questi sono lupi quelli che a me mi portano via al futuro fategli le foto la devono vedere tutte ha caricato in auto la carcassa di una pecora e l'ha scaricata a pochi passi dalla statua di Guido Monaco nel cuore del centro storico a retino un gesto di protesta eclatante quello di un allevatore di Ponticino perché c'è differenza tra vederla dietro uno schermo e vederla dal vivo perché era sbragata era era distrutta era mangiata completamente l'animale faceva parte del suo allevamento nell'azienda che si occupa di produzione di latte nelle campagne della frazione a retina a meno di un chilometro dal centro del paese era stato uccisa poche ore prima da un lupo il problema è che non ha più paura cioè questo che a me mi fa mi mette l'angoscia è talmente abituato alle persone ai rumori poi oh prima il lupo stava a montagna ora il lupo sta dentro il paese è la seconda volta lo scorso agosto 17 gli animali uccisi da un attacco di lupi sotto gli occhi dell'allevatore dopo questo episodio aveva ricevuto l'indennizzo per il danno subito ma io con le pecora non ce l'ho più nel momento in cui io ho il danno io non è che perdo la pecora perdo tutta la produzione che lui mi avrebbe che lei mi avrebbe potuto fare nel corso di un anno oppure negli anni a venire quello che dico io non voglio che i lupi vengano sterminati ma che gli venga data una bella ridimensionata tanta la rabbia e l'esasperazione per gli attacchi ricevuti ma cresce anche la paura se io devo arrivare a vivere così con l'angoscia cioè ma che vita faccio perché però allevare ancora pecore perché ce l'hai nel sangue perché ce l'hai nel sangue e questo noi ce l'abbiamo nel sangue cioè è inutile da dire o da fare noi cioè ci siamo nati così dopo l'antenna di via Sicilia ad Arezzo ce n'è un'altra in provincia che sta facendo discutere si trova in a Valtiberina o da Anghiari nello specifico dove dovrebbe essere installata una gigantesca antenna telefonica nel centro adesso il sindaco Polcari si è impegnato ad aprire un contraddittorio con la società per valutare una nuova collocazione dell'antenna ad annunciarlo è il comitato no antenna all'endo a mani della partecipatissimo consiglio comunale il sindaco scrivono in una nota riconoscendo l'assoluta inopportunità del luogo si è impegnato ad attivare subito un confronto con Inuit SPA per concordare un'altra posizione più consona come il comitato aveva chiesto a gran voce e adesso parliamo di sanità la Toscana nella 2024 potrà spendere 32 milioni di euro ovvero lo 0,4 per cento delle risorse del fondo sanitario nazionale che la legge di stabilità permette di assegnare in deroga i tetti di spesa per contenere le liste di attesa in sanità che riguardano interventi chirurgici e prestazioni ambulatoriali in particolare dei 32 milioni spendibili 19 saranno destinati al recupero delle prestazioni ambulatoriali 12 per il recupero degli interventi chirurgici e uno per gli scrini oncologici e ad Arezzo arriva anche l'infermiere di misericordia un nuovo servizio rivolto ai più bisognosi messo a disposizione dalla confraternita una figura che una volta era diciamo così molto settoriale ora è diventata una figura dinamica sono persone molto esperte per cui è una figura che diventa fondamentale in un quadro di promozione della salute vogliamo garantire un servizio professionale qualificato ma al tempo stesso c'è la componente umanitaria il volontariato umanitario noi siamo favorevoli alla realizzazione di un volontariato di relazione arriva così l'infermiere di misericordia un nuovo servizio rivolto ai più bisognosi messo a disposizione dalla confraternita opererà sia in sede che soprattutto al domicilio la misericordia ha istituito attraverso il suo magistrato la figura di infermiere di misericordia un professionista che può andare a domicilio a sostenere le famiglie nell'assistenza dei propri congiunti in particolare ci rivolgiamo anche ai parruci alle parrocche affinché le parrocche possono anche essere un punto di riferimento per l'assistenza e la tutela sanitaria assicurata dalla misericordia questo periodo noi abbiamo variato molto la nostra collocazione all'interno della città sia come centro di formazione sia come diffusione di molte cose di buone pratiche all'interno delle scuole con vari progetti e inoltre con le attività che abbiamo svolto anche per l'azienda per quanto dai dalle vaccinazioni ai tamponi agli screening quindi noi abbiamo abbiamo cominciato a cambiarci a cambiare e a spostarci anche verso questo aspetto sanitario esiste già un bando e a partire nei prossimi giorni coloro che decidono partecipare a queste esperienze di infermieri di misericordia possono fare la loro domanda ma al tempo stesso mi rivolgo anche a tutti gli amici e alle amiche che hanno lavorato con noi per tanti anni presso l'ospedale di Arezzo e che sono in pensione e che possono portare il loro contributo professionale come volontariato di umanitario di farsi avanti. Quando dato positivamente dell'iniziativa della misericordia che ha deciso di avviare una selezione per una figura infermieristica al servizio della comunità e colgo l'occasione per rilanciare il tema legato all'esigenza di incrementare il numero di professionisti nel sistema pubblico è il commento della presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo Giovanni Grasso che nel commentare l'iniziativa ricorda come la figura di infermiere di famiglie e di comunità sia fondamentale e debba essere ulteriormente rafforzata in termini di organico anche all'interno dell'azienda sanitaria toscana sud-est. E domani invece l'8 marzo la giornata internazionale dei diritti delle donne. In vista di questa giornata il movimento donne impresa di confartigianato Imprese Arezzo ha riproposto il Girls' Day, un progetto per celebrare il potenziale delle giovani donne e fornire loro opportunità di crescita e sviluppo. Le studentesse aretine hanno così avuto l'opportunità di interagire con professioniste esperte nei loro campi di interesse condividendo esperienze e offrendo consigli preziosi sul percorso da seguire. Un altro aspetto significativo della giornata è quello relativo alla sensibilizzazione riguardo alle sfide che le ragazze potrebbero affrontare nel loro percorso verso il successo. La casa di riposo Fossombroni conosciuta da Ianettini invece come Casa Feia è pronta a celebrare anche lei l'8 marzo con due appuntamenti che coinvolgeranno ospiti, operatori e consiglieri con l'obiettivo di celebrare le conquiste delle donne. Durante la mattinata del tour è ad alta voce e nel pomeriggio poi un fiore della pace in cui la casa di riposo tornerà ad aprire le porte ai rappresentanti del coordinamento donne dei sindacati della provincia di Arezzo che consegneranno ad ogni ospite un omaggio floreale. Tante le iniziative in tutta la provincia per la giornata dell'8 marzo e il Museo archeologico nazionale l'Ampiteatro Romano di Arezzo propongono l'iniziativa Storie di donne al museo. Alle 10.30 alle 17 il personale e la direttrice alterneranno le loro voci per presentare al pubblico storie di donne reali o mitiche suggerite dalle opere esposte. Ed infine ad Arezzo torna anche l'iniziativa Gardesi promossa da AISM, la manifestazione che invita tutti a partecipare scegliendo una pianta di gardenia o hortensia per sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. L'appuntamento è per l'8 marzo in tante piazze e aretine ma anche nella weekend di sabato 9 e domenica 10 marzo. Andiamo adesso a Villa Severi dove è arrivata una bella novità per gli amanti della lettura. Chi arriverà al parco infatti potrà passeggiare o trascorrere del tempo in una zona verde e accanto al bar troverà la casetta dei libri. Chiunque potrà prendere, leggere e riportare il libro tutto in modo semplice e gratuito. C'è un'agenda infatti dove scrivere il titolo, il nome e il cognome, la data di presa e poi di riconsegna. E adesso voltiamo pagina e ci spostiamo a Bibbiena. Ieri sera alla Teatro Dovizi in scena Buffoni all'Inferno. Una visita all'Inferno con i comici della Commedia dell'Arte. Al Teatro Dovizi di Bibbiena in scena Buffoni all'Inferno, soggetto originale per la regia di Marco Zoppello con Matteo Cremon, Michele Mori e Stefano Rota. Siamo povere anime, defunte, poveri, dannati e ormai anche stagionati. Su Ampolo, al secolo Giampolo di Amparvi, vostro servitore. Domenico, te e calze, sarto di bottega e buffone per diletto. Pietro Gonnella, giullare dell'immortal Florenzia. Quando a voi, o gentile pubblico, bussate morti stecchiti. Venezia, 1575. Un'epidemia di peste si porta all'altro mondo un terzo degli abitanti della città lagunare. Signori! Secondo me non ci hanno capito nulla. L'ade di colpo è intesato. Il diavolo in persona, perciò, decide di offrire uno sconto di pena alle anime di tre buffoni per tornare a fare ciò che in vita gli riusciva meglio. Intrattenere. Buffoni! E sia me che mi convinto un'ora di racconto in cambio di un giorno nel mondo tesora la novella di Frate Cipolla, ovvero dell'Avarizia del clero. Come venga maleudente, maleo capo, maleo ventre, ma lo stomaco in trupanza e lo culo la squaranza. Tu, frate Cipolla, mi risorgerai! Ma sarai più bello! Stato clarum! Clarum! Restiamo in Casentino, infatti partito da qui il progetto della Canottieri Comunali Firenze per festeggiare i suoi primi 90 anni proprio dal fiume Arno. Noi festeggiamo i 90 anni della nostra società, sono 90 anni che noi viviamo sul fiume Arno e per festeggiare degnamente questo compleanno abbiamo deciso di fare tutto il percorso del fiume dalla sorgente fino alla foce. Sono partiti dal Casentino, da qui infatti ha preso il via il progetto Le Vie d'Arno, iniziativa ideata e promossa dalla Canottieri Comunali Firenze per festeggiare i suoi primi 90 anni. In primis è un tributo che noi vogliamo dare al fiume, perché visto che sul fiume noi ci viviamo tutti i giorni dalla mattina alla sera, 365 giorni all'anno ormai da 90 anni e conseguentemente c'è un affetto, un amore particolare nei confronti di questo elemento. E poi quello che vogliamo fare è fare una valutazione lungo tutto l'asta dell'Arno di quelle che sono le condizioni, lo stato di salute del fiume sotto il punto di vista dell'inquinamento da plastica e verificare la possibilità e la fattibilità di poter percorrere in maniera turistico e esperienziale il fiume. La prima tappa del lungo percorso si è sviluppata attraverso le foreste casentinesi con diverse modalità, tutte ecosostenibili, per percorrere le distanze, a piedi, in mici, lungole ciclabili e in kayak. È l'occasione con l'associazione per valutare il fiume nei suoi molteplici aspetti, quindi la salute del fiume, la quantità di erosioni, le condizioni delle opere, la condizione della vegetazione, la presenza della fauna, insomma un sacco di rilevamenti importanti anche per il consorzio che si occupa della sua manutenzione. Ed è l'occasione questa anche per celebrare il fiume. L'iniziativa toccherà nuovamente la provincia di Arezzo. 16 di marzo dove saremo a Punta Buriano. Punta Buriano dove faremo rafting, dove i ragazzi scenderanno e dove ci saranno anche ragazzi del CASIC Centro Avviamento allo Sport che parteciperanno in maniera attiva all'iniziativa nell'invaso della penna. Adesso la pagina dello sport. Il basket si avvicina alla 39esima edizione del trofeo nazionale di pallacanestro Guido Guidelli in campo scenderanno 38 squadre. 38 squadre in campo per la 39esima edizione del trofeo nazionale di pallacanestro Guido Guidelli. La manifestazione giovanile organizzata dalla scuola basket Arezzo ha registrato il sold out di iscrizioni e da giovedì 25 a sabato 27 aprile tornerà ad aggregare centinaia di giovani promesse da tutta la penisola che si confronteranno nelle categorie under 13 ed under 14. Un particolare successo è stato discorso dall'assoluta novità del trofeo femminile dove saranno impegnate anche le ragazze della squadra della SBA allenate da Adriano Alfieri assieme a Roberta Bindi. Il torneo maschile invece riunirà 28 formazioni che arrivano da ben 9 regioni. Questa partecipazione rinnoverà un'importante occasione di confronto ed incontro tra ragazzi di tutta Italia e troverà il proprio cuore nella tradizionale serata di gala di venerdì 26 aprile quando il Palace Portestra Mario D'Agata ospiterà la cerimonia di premiazione di tutte le squadre a prescindere dai risultati raggiunti sul campo. La presenza di formazioni provenienti dall'intera penisola ribadisce dunque anche l'impatto turistico del trofeo Guido Guidelli che oltre ad essere una delle manifestazioni cestistiche giovanili tra le più longevi a livello nazionale e anche un volano promozionale del territorio andando a catalizzare migliaia di visitatori in virtù del seguito di dirigenti, tecnici e famiglie. Questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci Grazie Grazie Grazie